Di 14 persone in manette il bilancio dell'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Roma nelle province di Roma e Latina che ha permesso di interrompere il traffico di droga, telefoni cellulari e schede telefoniche dirette ai detenuti del carcere di Velletri eludendo i controlli. In collaborazione con il nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria sono in corso le perquisizioni di alcune celle ubicate negli istituti di pena di Civitavecchia, Frosinonne, Re Bibbia, Regina Celi, Campobasso, Viterbo e Spoleto. Nelle indagini dirette dalla procura della Repubblica di Velletri sono coinvolti un agente di polizia penitenziaria e un infermiere entrambi in servizio nel carcere di Velletri.